Sono Marta Torbidoni e interpreterò il ruolo di Norma qui al Macerata Opera Festival. Per me Norma è combattiva, combattuta e fragile. Per me è la prima volta qui allo Sferisterio e essendo marchigiana è un onore. La parte difficile del ruolo di Norma è a livello interpretativo ma anche a livello musicale perché è un personaggio che richiede molta personalità ma anche maturità vocale che va affrontata dopo una certa esperienza sia tecnica che interpretativa. Per me debuttare Norma è un traguardo molto importante e non vedo l'ora di salire sul palco dello Sferisterio e di interpretare questo ruolo.